Ultimo giorno di mercato alle 19, la chiusura di ogni trattativa. In prima divisione il Barletta ha fatto suo il centrocampista centrale Domenico Di Cecco, 28 anni, lo scorso anno 29 presenze e 5 recti con la casacca della Virtus Lanciano. Per lui due intense stagioni in B con la maglia dell'Avelino dopo anni di gavetta a Chieti nella vecchia C1. Il DS Castagnini intanto sta cercando di chiudere per un centrale di difesa, Olivi pare sfumato ed un attaccante svincolati, il portiere Tesoniero ed il difensore Anselmi. Va all'Andre Alberto Cosentino, difensore centrale strappato proprio ai biancorossi e va davvero ad irrobustire un reparto arretrato parecchio variegato. Cosentini ha un classe 88 lo scorso anno a Gela in prima divisione dopo aver trovato poco spazio a Novara, una sola presenza in B. Sarà il giorno in cui scopriremo se Paolucci resterà o meno, dato che le richieste dai cadetti abbondano, via la carra cercato da Salerno e L'Aquila, in arrivo qualche altro under. Gran bel colpo per la Fortistrani che chiude in bellezza il proprio mercato, preso l'attaccante Luigi Artiaco, classe 80, lo scorso anno 20 reti a Racale nel campionato d'eccellenza pugliese. Si giocherà in notturna al Gustavo Ventura, Biceglietta e Rizzi, start alle ore 20.30 per l'esordio dei nero-azzurro stellati nella Premier League del calcio pugliese.